radiografica. Sovente questi sigilli erano sui telai, purtroppo il telaio del San Gerolomo non è il telaio Giustiniani, però togliendo la tela di Rifodoro se salterà fuori, se il monastero avrà il coraggio di fare questo perché il quadro poi si presenta potente, ben solido, non ha l'aria di sollevamenti, di quadro fragile, quindi se avranno il coraggio di togliere la tela di Rifodoro finalmente sapremo la verità. Adesso accenno rapidamente la storia di questo dipinto anche se già Artur Ramon ha fatto una buona esposizione e oltretutto in catalano, quindi io spero che riusciate a seguirmi e vi prego se qualcosa non è chiaro vi prego di interrompermi. Allora il quadro venne notato nel 1914 da Roberto Longhi in collezione Magni a Roma in palazzo Magni. Lo notò? Evidentemente se lo appuntò Boschetto nel 1973 ha pubblicato il taccuino di Appunti del 1914 e allora qui vedete sia il San Gerolamo di Monserrat sia il disegno di Longhi. Il disegno è molto fedele, molto attento e ad esempio un'incongruenza nella parte bassa del manto ci fa pensare che ci siano stati magari ulteriori interventi di restauro. Allora Longhi vede il San Gerolamo presso Magni. vede questo quadro, ne fa il disegno e solo molti anni dopo in un articolo parla del San Gerolamo ma non sa che il quadro è andato a finire a Monserrat, se ne accorge è il nodo della Sarte e infatti Artur Ramon ci ha fatto vedere uno scambio di corrispondenza conservato alla fondazione Longhi per cui lo studioso Longhi capisce che la sua intuizione è di grandissima importanza, la sua intuizione del 1914 esternata nel 1943 e espone il San Gerolamo di Monserrat alla mostra che lui fa a Milano dell'opera di Caravaggio, una mostra epocale con molti quadri che oggi sono discutibili, ci sono delle cose che non sono state più accettate ma il grosso nucleo è molto importante, è una mostra che nasce dalla collaborazione fra Longhi e Venturi, Dionello Venturi e poi anche altri personaggi però poi quando la mostra si apre c'è solo il nome di Longhi perché purtroppo si è aperto un conflitto fra i due grandi studiosi che sarà drammatico per tutti noi allievi, per gli allievi di Longhi, per gli allievi della scuola di Venturi, per gli allievi della scuola di Adolfo. Io essendomi laureata con Argan mi considero invece più legata alla tradizione di Adolfo Venturi e la grande tradizione di studio positivista dei documenti. La scuola di Longhi che puntava alla creazione negli allievi dell'occhio del conoscitore sarebbe stata l'altra faccia della medaglia per una straordinaria collaborazione che avrebbe portato la storia dell'arte italiana alle stelle e invece diventò fonte di guerre e di conflitti a partire dalla mostra del 51 a Milano e a partire dal desiderio di Longhi di essere chiamato sulla cattedra di Adolfo Venturi a Roma, desiderio che venne purtroppo frustrato, purtroppo perché è stato veramente una cosa nefasta. Quindi da questo che vi racconto vengono fuori tanti aspetti di incertezze, conflitti, problemi conoscitivi e gli infiniti mille volti che ha lo studio della storia dell'arte. Citiamo Longhi. Questo San Giovanni Battista di Kansas City, Longhi lo notava per la positura verticale. La positura verticale secondo Longhi apre alla maniera grande di Caravaggio. C'è un rapporto fra questa positura verticale del Santo e il San Gerolamo di Montserrat. Anche nel San Gerolamo c'è un gioco triangolare delle spalle, delle braccia e questo movimento ascensionale. Le gambe fanno quasi da molla e questo ginocchio che è un punto focale della composizione, il ginocchio di San Gerolamo, il ginocchio di San Giovanni Battista che sono come un perno di tutto. Certo nel San Giovanni Battista vediamo ancora uno sfondo di diversura, foglie, una parete come nella deposizione della valicella che oggi noi vediamo nera ma in realtà era piena di foglie e di immagini di sfondo come a testa una copia che ho ritrovato e che mi auguro di poter pubblicare presto. Quindi il problema della datazione in San Gerolamo di Montserrat è a mio avviso giusto porlo dopo il San Giovanni Battista. Questa frettolosità di esecuzione potrebbe essere un dipinto che lui abbandona non completamente finito anche se l'idea centrale è tutta chiarissima e ben leggibile. Adesso parliamo dell'inventario giustiniani in cui appaiono i quadri, gli ultimi quadri venduti. Allora, ah beh c'era qualche altra piccola cosa che vi volevo far vedere. Questo è il San Gerolamo di Malta di cui avete visto il particolare del sasso. Però qui la testa del santo non è uguale alla testa del santo Monserrat. A me pare che qui il santo San Gerolamo, scrivente, ha come modello a Lof de Vignacourt che era il gran maestro dell'ordine di Malta. Un altro splendido San Gerolamo è quello della Borghese. Ecco, non abbiamo visto questo quadro prima perché Artur Ramon non l'aveva portato. Questo quadro, il museo che lo possiede, dubita che sia di Caravaggio. L'attribuzione è di Maurizio Marini che lo data intorno al 1609, conservato a Worses. È un quadro veramente singolare ma se il Cavadenti è di Caravaggio questo quadro ci deve far pensare perché guardate queste mani che sono poi quelle mani contratte a cui guarda anche Ribera e poi questo volto drammatico di San Gerolamo che vede, ha un'apparizione sacra molto importante che ritroviamo persino in Rembrandt molto più tardi. Ah, e poi vi volevo un attimo parlare di questo inventario del 1859. Gli ultimi quadri giustiniani vengono venduti nel 1859 e questi dipinti c'è un grosso nucleo di Ribera. C'è Gesù fra i dottori che ora è a Langr. Tutte cose che interessano molto a Gianni Papi. c'è il San Gregorio Magno pervenuto a Palazzo Barbenini attraverso la collezione Torlonia, collezione studiata da Rossella Vaudré. Questo quadro era a Palazzo Barbenini con attribuzione a Saraceni, ma mi accorsi che faceva invece parte di una serie di quattro dottori della chiesa dati nell'inventario a Ribera e l'attribuzione a Ribera di questo quadro è stata accolta sia dal museo sia da molti studiosi, credo anche da Gianni Papi. Allora in questa asta dove viene venduto il San Girolomo di Caravaggio che sta a Monserrat viene venduto questo San Gregorio Magno. Vengono venduti vari Ribera, vengono venduti. Quindi volevo dire che questa asta del 1859 è un'asta importantissima. Probabilmente questi pezzi avevano uno stato di conservazione meno perfetto rispetto a quelli che nel 1812 vennero comprati dal re di Prussia. Probabilmente questi quadri venduti nel 1859 fanno un lungo giro fra gli antiquari e i collezionisti romani, per cui il San Girolomo di Caravaggio e il Monserrat che va a finire a Palazzo Magni dovremmo poter accedere ai registri, chissà se esistono ancora, di alcuni antiquari che trafficavano su queste vendite. Fate un po' la chetichella. fra i quadri venduti in questa asta c'era questo Sant'Agostino nello studio un Sant'Agostino che ho proposto di riconoscere come opera di Caravaggio giovane ma l'attribuzione è stata violentemente attaccata. C'è il teschio, c'è questa attenzione alla penna, c'è il cappello che abbiamo visto anche nel San Gregorio Magno come emblema del ruolo di vescovo di Sant'Agostino. Qui vedete il documento del 38 e qui vedete un'etichetta che dice procedenza del Marchese Recanelli e la calle del governo. Chi era il Marchese Recanelli? Questa etichetta sta dietro al Sant'Agostino. Il Marchese Recanelli era un Recanelli giustiniani, ultimo erede della fortuna dei giustiniani quando muore Leonardo giustiniani, entra nel palazzo ed è lui che fa quest'ultima importante asta in cui vengono venduti a volte a bassissimo prezzo gli ultimi quadri superstiti della collezione giustiniani, quadri superstiti di non poco valore. Allora, chi poteva conoscere il nome di Recanelli e chi poteva sapere che la calle del gobierno era l'attuale via della dogana? Il palazzo giustiniani oggi è considerato, il suo indirizzo è via della dogana. Il nome di calle del gobierno lo ebbe per pochissimi anni ed è il nome di via del governo che appare sul volentino di questa asta che è conservato all'archivio di Stato di Roma nelle filze giustiniani. La cosa, un vero peccato che un'occasione per analizzare la possibilità, il dubbio di essere davanti a un quadro giovanile di Caravaggio non ha dato a nessun studioso un barlume di curiosità anche perché hanno subito preso in pugno la situazione i due Golia, i due giganti Golia del nostro mercato dell'arte, dei grossi compensi per attribuzioni che sarebbero Sgarbi e meno esplicitamente Tommaso Montanari. Quindi loro hanno fatto la voce grossa, hanno battuto il pugno sul tavolo, hanno voluto aver ragione loro e si è chiusa la discussione su un argomento che invece poteva essere estremamente importante per, ad esempio, se noi guardiamo le rughe della fronte di Sant'Agostino sono tracciate con linee di biacca come le rughe della fronte del San Gerolamo, di Montserrat e Borghese. Se noi guardiamo la penna in mano al Sant'Agostino venduto nel 1859 e finito in Spagna, vediamo che la penna è la stessa. Vediamo il calamardo vediamo un modo di far vedere sotto alle dita si intravede quello che c'è dietro, il libro, il palmo della mano, il teschio e il colpo di luce sul libro aperto. Lo vedete nel Sant'Agostino e lo vedete nel San Matteo con l'Angelo della Contarelli. Questo discorso sul Sant'Agostino non c'entra con quello che ci interessa oggi, però secondo me esprime bene lo stato degli studi di storia dell'arte in Italia che è un po' decaduto purtroppo. Ecco qui vi faccio vedere i giochi prospettici che Caravaggio fa in San Matteo con l'Angelo. Vedete lo sgabello esce in primo piano. Anche il libro nel Sant'Agostino è dipinto come se sporgesse. No, questo non c'entra. è lunedì, credo di non potervi trattenere di più. Il problema del San Gerolo di Montserrat sarà risolto solo con una prova lampante, facendo emergere la paraffa e togliendo la tela di rifodero. Il poter sapere con certezza la provenienza giustiniana e voi direte che ci importa, tanto Caravaggio lo è di sicuro. però dare la provenienza giustiniana è come dare una medaglia d'oro a questo quadro perché in effetti questa quadriria giustiniana aveva un livello superiore, insomma sicuramente Caravaggio per loro si impegnava molto come vediamo dall'amore vincitore. Per me è stata una grande emozione essere qui oggi con voi e rivedere questo quadro magnifico che avevo voluto esporre in mostra nonostante questo margine di incettezza ma era troppo importante trovare una situazione